www.marinzopoli.it, ho fatto un video per quanto riguarda l'accantonamento per il fondo pensionistico, per un fondo previdenziale, per una previdenza integrativa, accantona per il tuo futuro, proteggi il tuo futuro, ma i dati sono sconfortanti per quanto riguarda invece la realtà che a volte ci sorpassa a Brescia nel 2022, 2 miliardi e 621 milioni spesi non in previdenza, non in protezione del tuo futuro, ma in gioco d'azzardo e ben 44 milioni di euro, non riesco neanche a dirlo, per quanto riguarda il gratto e vinci. In Italia dal 2021 al 2023 c'è stato un aumento del 21% della spesa del gioco d'azzardo, pari a 111 miliardi di lire, quindi proteggere il proprio risparmio, il proprio futuro è anche questo, la gestione del proprio denaro, c'è sempre anche il discorso dell'autopatia, ma ne faremo un video. Buona educazione finanziaria a tutti!